Continua la conta dei danni dopo il maltempo che con forti raffiche di vento si è abbattuto la scorsa settimana sulla città della fortuna e non solo. Come richiesto dal Dipartimento regionale di protezione civile, i privati cittadini dovranno segnalare al Comune di Fano i danni subiti all'attività economiche produttive, con esclusione di quelle agricole e dalle proprietà private, entro e non oltre il 13 marzo alle ore 12 per le richieste consegnate direttamente al protocollo del Comune e invece per quelle inviate tramite PEC o fax entro e non oltre il 15 marzo alle ore 24. Le segnalazioni dei danni indirezzate al Sindaco Massimo Seri dovranno essere presentate direttamente al protocollo comunale in via San Francesco fino alle 12 di venerdì 13 marzo, con orari per lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13, mentre il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, oppure anche tramite posta elettronica certificata alla PEC all'indirizzo comune.fano.emarche.it. Il fax invece è al numero 0721 88 73 68, questo entro le ore 24 di domenica 15 marzo. Le segnalazioni dovranno riportare tutti i dati anagrafici del richiedente, compreso recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica, inoltre la descrizione, quantificazione e localizzazione del danno subito e l'eventuale documentazione fotografica. Si precisa che non dovranno essere ripresentate o ripetute le segnalazioni di danni relativa agli eventi di novembre-dicembre 2013 e maggio 2014. Invece per quanto riguarda i danni già segnalati con la precedente ricognizione effettuata per lo scorso mese, dovrà essere indicata la sola stima relativa all'eventuale aggravamento rispetto a quanto già comunicato. Intanto il Consiglio Comunale riunitosi ieri e ha approvato all'unanimità due ordini del giorno. Il primo relativo al ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della circolazione stradale, l'altro sulla messa in sicurezza invece del rio Crinaccio, nella zona di Ponte Sasso, che durante le ultime mareggiate aveva creato disagi sia sul lungomare che nelle zone residenziali circostanti.